Sto cercando un individuo misterioso. E' lui. Sono arrivati a prendermi. Erano tre individui mali. Siamo venuti a prendersi. Sì. Aveva dei poteri potentissimi. Era abilissimo. Prendiamolo. Non avrai scampo. Aveva dei poteri sovrannaturali. Adesso mi avete fatto veramente il caffè. Ma è potente. Come faremo? Aveva dei poteri guarda. Io non lo so. E' potentissimo. Dove è il due il mascalzone. Lì su il mattacchione. E' il libidetto al birichino. E' con la straordinaria partecipazione di Mastro Bodier. Un film che è una cagata. Ci voleva tanto. Ci voleva tanto. Allora... ... Grazie.